Ben ritrovati amici del centro maritaliano! Un impulso instabile in transito sulla nostra penisola porta piogge e acquazzoni sparsi soprattutto al centro sud, mentre al nord il tempo si presenta più asciutto. Vediamo però cosa aspettarci per l'ultima delle festività, l'Epifania, che cadrà al prossimo sabato. Tra domani e dopodomani avremo un flusso di correnti nord-occidentali sulla nostra penisola che porteranno precipitazioni su settori alpini di confine, come anche lungo l'Adriatico e al sud. A seguire, i principali modelli di calcolo propongono la discesa di una saccatura depressionaria verso la penisola iberica, con conseguente risalita di aria più umida verso l'Italia. Ancora presto per formulare una previsione meteo vera e propria per sabato 6 gennaio, nel complesso il tempo dovrebbe risultare piovoso al nord e in parte sul tirreno, mentre sul resto della penisola non dovrebbero esserci fenomeni di rilievo. Temperature al di sopra delle medie del periodo fino a 4-6 gradi, trattandosi comunque di una tendenza meteo, seguite tutti i prossimi aggiornamenti per i dettagli, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centromato Italiano.